buongiorno amici di navarra ferramenta casalinghi idee eccomi qua in compagnia di un bel poker d'assi si tratta dei ricambi originali l'agostina per le vostre pentole a pressione nella mia mano potete vedere la valvola di esercizio in acciaio inox la valvola di sicurezza per non aprire il manico sbadatamente e la valvola di gomma sempre per la sicurezza della pressione per il controllo della pressione e inoltre la guarnizione in gomma che sta sotto il bordo della tegame mi raccomando l'agostina stessa dice di sostituire perlomeno le parti in gomma ogni tre anni inoltre ci sono delle dei piccoli accorgimenti per la pulizia soprattutto della valvola di esercizio che vi consigliamo di fare almeno una volta al mese soprattutto se la usate molto di frequente se poi siete anche nostri clienti wips e non c'è bisogno che vi spiego ulteriormente di che cosa si tratta avete diritto ad uno sconto specialissimo dedicato proprio solo a questi articoli che sono in promozioni in offerta solo per i clienti wips questo weekend va da sé che per diventare cliente wips serve pochissimo basta che mi mandiate un messaggino al 327 8518954 potete approfittare di questa bellissima offerta se vi è piaciuto questo post mettete il mi piace e condividetelo perché magari anche i vostri amici possono avere bisogno di sostituire i pezzi di ricambio lagostina e a eternum vi saluto ricordandovi che siamo sempre aperti tutta estate perché l'estate non è ancora finita ciao